nella serie topolino e gli amici del rally interpreto un personaggio che si chiama robbie roberts 4 5 bla bla 135 fatto ed è un cane antropomorfo sulla tipologia di pippo un cane molto elegante ben pettinato che noia ho già fatto questa scalinata tempo snob un po alpezzoso uno che non si scompone molto resta sempre così compito robbie roberts non è uno che balla salvo poi divertirsi quando si ritrova in mezzo a determinate situazioni coinvolgenti divertire non è il verbo che mi sento di utilizzare doppiare una serie di cartoni animati o comunque una serie per bambini rispetto a un film è una cosa molto diversa perché essendo personaggi animatici si può divertire a caratterizzarli a spingere di più andare sopra le righe e ridammelo subito basta basta ho detto protagonisti sono topolino pippo pluto e paperino e anche se forse fisicamente ho più affinità a con pippo però il personaggio che mi sta più simpatico è sicuramente paperino che che è meno goffo e meno ingenuo di pippo e che però è sfortunato per il quale credo di non essere il solo a tifare in ogni storia i miei appunti sono un disastro totale ma questo tour è stato una vera delizia vi do appuntamento per la messa in onda di topolino agli amici del rally il giorno 19 aprile alle 17 su disney junior grazie a tutti grazie a tutti